Il piede sollevato da un cuscino col sacchetto del ghiaccio alla caviglia. Ecco la foto che Fiorello ha pubblicato sul suo profilo Twitter e che ha fatto preoccupare i fan baresi, che attendevano con trepidazione di poterlo applaudire nel suo nuovo spettacolo L'ora del Rosario, in scena al Petruzzelli. Ma proprio mentre lasciava il teatro barese dopo la prima di sabato sera, lo showman ha rimediato una storta alla caviglia sinistra. Ironia della sorte sullo stesso palco dove a marzo scorso cade rovinosamente, fratturandosi il femore, un altro artista siculo, Franco Battiato. Lo spettacolo si farà, ha assicurato Fiorello, in scena anche ieri sera e stasera in un Petruzzelli gremito. L'ora del Rosario affronta i temi di attualità con la solita ironia alla Fiorello maniera. Sul palco l'accompagna la band diretta dal tastierista Enrico Cremonesi, con Carmelo Isgro al basso, Massimo Pacciani alla batteria, Antonello Cora Durazza, le chitarre e dal trio vocale i gemelli di Guidonia.